Nel nostro andare alla ricerca settimanalmente di temi e di personaggi che li rappresentino che portino avanti il concetto della sicurezza come cultura, come safety, questa nostra pubblicazione vuole e pretende oggi vi invitiamo a conoscere il dottor Lorenzo Tusi, agronomo specializzato in fitoiatria e fitopatologia ma a noi interessa perché ha un ruolo importante, è il presidente dell'ordine dottori agronomi e forestali della provincia di Verona con lui ci confrontiamo sui temi della sicurezza in agricoltura pensando anche ai pesticidi, molte domande ci arrivano da parte vostra a riguardo, temi della sostenibilità, delle certificazioni soprattutto nel campo enologico ma non soltanto è data la centralità della sua professione anche nelle questioni perché no ambientali come sempre al termine dell'intervista la parola andrà all'avvocato Alberto Franchi che vediamo già presente e che eccolo potrà salutare i nostri amici buonasera avvocato buonasera direttore buonasera dottore e adesso il dottore appare perché il dottore Lorenzo Tusi e gli diamo la parola come sempre dopo la sigla e benvenuto dunque al presidente Lorenzo Tusi veramente di cuore sono anche curioso di intervistarla per le tematiche che lei rappresenta sono veramente importanti dunque parliamo della professione dell'agronomo e del forestale in continua evoluzione lo sappiamo bene anche per supportare le aziende verso un'agricoltura e una gestione delle risorse forestali e ambientali sempre più rispettose dell'ambiente ma anche innovativa vorrei che lei ci introducesse intanto al tema con una riflessione su questo primo punto sì buonasera innanzitutto Claudio buonasera a tutti quanti sì certamente la nostra professione e l'ordine che rappresento è implicata direi ai massimi livelli proprio negli argomenti che lei ha appena descritto insomma l'agricoltura e le foreste rappresentano un elemento fondamentale se non altro perché ci garantiscono l'aria che respiriamo e il cibo che mangiamo la scommessa è gestirle e utilizzarle al meglio nell'ottica del rispetto della biodiversità che oggi va tanto di moda ma che è diventata anche una necessità assolutamente improcrastinabile va tanto di moda la biodiversità ma in realtà una volta che se ne conoscono le sfaccettature e le problematiche che porta con sé se è mantenuta o se non c'è più le abbiamo imparate a conoscere senta presidente tocchiamo subito il nervo scoperto un nervo che in più di una occasione viene citato forse anche un poco incongruamente per anni gli agricoltori hanno fatto uso di agenti chimici per produrre il cibo che nutre tutti noi che nutre il continente i pericoli dei pesticidi sono noti eppure se ne continua credo a fare utilizzo ma a questo punto voglio sentire qual è la verità delle cose e la sua riflessione su questo tema sì è un tema estremamente delicato anche perché è molto complesso è chiaro che quindi trattarlo richiederebbe molto tempo è un tempo che non abbiamo però vada fatta innanzitutto una premessa coltivare vuol dire alterare un sistema naturale perché la natura non prevede il campo di mais o il vigneto o il frutteto quindi chi coltiva, chi fa agricoltura in qualche modo va ad alterare gli equilibri perché sposta la biodiversità del sistema naturale verso una monospecificità tipica della cultura coltivata e questo comporta una serie di disequilibri indipendentemente dalla tecnica che si utilizza per poter far questo però bisogna continuare a intervenire ecco che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari o pesticidi usando un termine insomma improprio ma che va di moda è direi una male necessario perché noi dobbiamo difendere le piante che si amarrano proprio perché si trovano in un contesto non naturale naturalmente si tratta di farlo nel sistema diciamo meno impattante possibile nel rispetto il più possibile della biodiversità che dicevamo prima ma anche degli equilibri quindi si tratta di appunto trovare un compromesso tra difendere le culture utilizzando delle molecole che sono per loro natura tossiche perché sono fatte apposta per uccidere degli organismi e quindi hanno degli effetti tossici è vero che però sono, a parte che sono studiate con un procedimento estremamente complicato e autorizzate dal Ministero della Salute in Italia e dell'agricoltura quindi stiamo parlando di prodotti estremamente controllati e studiati e dicevo vanno utilizzati nel modo migliore cercando di ottenere il maggior rispetto possibile appunto del sistema comunque naturale ecco io mi innervo subito in quest'ultima sua affermazione percorsi produttivi virtuosi impongono impegni precisi significativi nell'adozione di quelle che si chiamano le buone pratiche nei campi come nella vita evidentemente ecco, sono seguite queste regole esiste attenzione oggi alle tematiche dell'ambiente al territorio e anche la persona in ambito forestale, in ambito agricolo? sì, direi assolutamente sì diciamo che la rivoluzione per quanto riguarda la rivoluzione scattata nel sacco del famoso lì di racconto primavera era un'erologa americana che per prima denunciò l'uso smodato dei pesticidi degli agrofarmaci allora in Stati Uniti in particolare che veramente distruggeva aveva come conseguenza la distruzione dell'ambiente oggi siamo veramente ad anni luce da quel periodo storico perché è una serie di normative che si sono succedute soprattutto negli ultimi 15 anni direi un aumento della sensibilità del consumatore e un aumento della formazione e della sensibilità anche del mondo agricolo in questo caso hanno portato a un cambiamento epocale le faccio solo un esempio negli ultimi 10 anni l'80% dei prodotti disponibili sono spariti dal mercato perché i criteri di valutazione sono diventati talmente restrittivi con l'obiettivo di preservare il più possibile la sicurezza dell'ambiente e del consumatore che ha fatto sì che molte molecole che venivano prima utilizzate sono state eliminate dall'utilizzo per cui oggi abbiamo un portafoglio di farmaci di agrofarmaci molto più distretto molto più selettivo e molto più sicuro certamente ripeto quello che ho detto prima sono comunque molecole fatte per uccidere organismi che vanno utilizzate nel miglior modo però voglio dire il quadro che oggi andiamo ad osservare è estremamente più rassicurante rispetto a solo per esempio 20 o 30 anni fa e bisogna anche dire Lorenzo che ci sono amministrazioni comunali che sempre di più sono attente sono i famosi comuni virtuosi è una catena, è una litania che a me fa piacere quando la snocciolo e la posso vedere tra l'altro fa anche piacere capire ma anche qua voglio sentire il suo parere che il cibo bio comincia a essere presente nelle mese scolastiche nelle mese pubbliche lei cosa ne pensa? è una strada questa che va continuamente percorsa? allora indubbiamente il biologico l'agricoltura biologica il metodo biologico ha avuto un'importanza fondamentale perché in qualche modo è stata una punta di diamante che ha dimostrato che si poteva coltivare in modo più sostenibile più rispettoso meglio e ha in qualche modo fatto da traino un po' da apripista poi a tutta l'agricoltura oggi non si parla più di agricoltura tradizionale si parla di agricoltura integrata di difesa integrata che vuol dire che è un approccio in cui si utilizza tutti i strumenti anche biologici per difendere le piante il biologico come sappiamo utilizza solo prodotti naturali per la difesa ed è sicuramente appunto un elemento di spicco e di elevatissima qualità certamente il biologico ha un problema che ha una produzione che è un po' più limitata e un costo di produzione che è più elevato perché l'approccio e l'apporto meglio di fattori della produzione è più elevato quindi difficilmente potrà diventare a mio avviso lo standard di riferimento per tutto il cibo che viene fornito sul mercato certamente per le mense le mense scolastiche è un elemento positivo al di là della qualità intrinseca se non altro perché educa a un certo tipo di qualità che dobbiamo pretendere dal cibo che mangiamo e questa qualità prego no no per finire il discorso quindi fatto salvo il valore del biologico come settore trainante diciamo come stimolo continuo resta vero che poi il resto della produzione diciamo ha un livello di sicurezza tale che ormai non ha praticamente niente da invidiare al biologico e in qualche modo diciamo è proponibile per il resto del mercato a cui può essere appunto proposto e venduto e a proposito di mercati presidente è appurato ormai che standard rigorosi protocolli rispettati garantiscono anche più chance commerciali proprio nei mercati che sono sempre più sensibili al tema della qualità credo che sia un'affermazione che si può fare questa assolutamente sì anche il livello qualitativo diciamo della produzione chiamiamola ordinaria che non è ordinaria perché è di serie B diciamo è fatto con un approccio integrato e assolutamente a livelli elevati elevatissimi va anche detto una cosa una volta tanto dobbiamo anche essere orgogliosi come italiani perché direi che nel mondo l'Italia in Europa e all'interno d'Europa nel mondo ha gli standard di produzione più restrittivi che garantiscono la qualità migliore e in assoluto la più elevata a tutti i livelli sia intrinseca in termini di diciamo qualità nutrizionale ma anche in termini di sicurezza questo ci è riconosciuto da tutti gli organismi mondiali ecco sicurezza dobbiamo abbinarla anche al tema della sostenibilità il termine sicurezza perché basta citare la gestione degli inerbimenti o dei residui delle potature delle lavorazioni mi sono informato in un contesto di economia circolare la scelta sugli imballaggi un tema molto sensibile le strategie per migliorare le prestazioni energetiche nel campo come nelle cantine nelle vigne nelle strutture coperte nelle serre ecco si può dire oggi che quindi la sicurezza sempre di più deve anche significare sostenibilità direi direi proprio di sì va a braccetto se non ha sostenibilità ambientale direi che è il primo parametro che si sposa con la sicurezza intesa sempre rispetto alla produzione e alla produzione in particolare delle derate agricole lei parlava di economia circolare in agricoltura diciamo che si è ripresa in maniera molto molto forte questo concetto che forse era stato un po' abbandonato nei decenni passati perché c'era stato un po' un'euforia del consumo anche in agricoltura oggi in realtà si tende a riciclare tutto pensiamo appunto che da un fruttetto a parte la frutta che viene asportato ovviamente ma tutto il resto rimane dentro quindi le foglie ma il legno i residui che vengono macinati riutilizzati a livello del terreno dove si trasformano in humus e vanno a implementare la quantità di sostanza organica fondamentale proprio per la qualità del terreno questo è uno degli esempi per esempio però anche relativamente agli imballaggi il grosso sforzo che sta facendo in questo caso l'agroindustria è proprio di mettere a punto imballaggi diciamo biodegradabili e quindi formati da matrici organiche per esempio l'utilizzo della canapa è proprio una delle frontiere che leggevo ieri si sta cercando ma più banalmente in cartone o in materiale mater B quindi plastiche diciamo così biodegradabili proprio per andare verso un discorso di sostenibilità e di riciclo e di migliore l'utilizzo possibile dei cosiddetti combustibili fossili che tanto male sappiamo fanno ahimè eh sì questo è un tema importante e vado ad affrontare preavverto l'avvocato eh franchi alle ultime due domande in modo che gli lasciamo lo spazio e poi il presidente eh potrà sicuramente anche avere la possibilità di dire qualcosa conclusione di pubblicazione la domanda centrale a questo punto non dico la conclusiva ma la centrale è eh sta cambiando l'opzione eh del mondo agricolo nei confronti del tema del clima secondo lei il problema del cambiamento climatico e quindi anche degli obiettivi comunitari di neutralità climatica che vuoi o non vuoi sono lì all'orizzonte e aspettano soltanto di essere conseguiti in funzione di tutto ciò e sapendo che il mondo agricolo comunque è responsabile un poco del tutto lo è come si sta muovendo proprio il mondo agricolo al riguardo è l'ultima domanda presidente certamente ma la prima cosa che mi viene in mente è proprio in questi mesi l'abbiamo vissuto il tema dell'acqua e della gestione dell'acqua per esempio bravo c'entra con questo ambito il grosso sforzo è di aumentare l'efficienza dell'utilizzo in modo da risparmiarne il più possibile perché un grosso problema dell'acqua è solo una parte va a beneficio della pianta viene assorbito delle radici con i sistemi tradizionali parte più o meno tanta se ne va o per dissibiazione del terreno o dispersi in atmosfera ecco che allora il grosso sforzo è di abbandonare i sistemi poco efficienti e di investire in sistemi efficienti quali per esempio alle gocciolanti quindi posizionare i distributori di acqua vicino alle radici in modo che vada tutta e venga tutta captata dalle radici stesse o addirittura si parla di subirrigazione cioè di mettere i tubi sotto terra in modo che tutta l'acqua vada direttamente a contatto col terreno e neanche una goccia se ne vada persa nell'atmosfera certamente questo richiede investimenti e quindi sono aspetti anche economici che poi vanno a impattare con il reggito dell'azienda però questa è una delle prime cose l'altro aspetto importante mi viene da dire è anche appunto tornando al recupero delle matrici organiche la pianta è uno dei consumatori di anidride carbonica più potenti e più performanti perché per vivere lei ha una sorta di anidride carbonica quindi non dimentichiamo che per certi aspetti la produzione agricola è un elemento diciamo è un'attività che comporta anche un recupero e un sequestro dell'anidride carbonica dell'atmosfera ecco la cosa che si fa invece di distruggere le matrici bruciandole o come si faceva un tempo disperdendole di incorporarle nel terreno aumentare lo stock di sostanza organica che alla fine non è un altro che carbonio che invece di tornare nell'atmosfera viene sequestrato nel terreno ecco questi sono due piccoli esempi di tentativi di cercare di andare anche contro questa esigenza insomma del non cambiare il cambiamento climatico perché questa è un'opzione che non è nelle nostre mani ma di contribuire a ridurne gli effetti quanto meno bene con il presidente Lorenzo Tosi ci si ritroverà al termine della pubblicazione ma adesso è tempo di lasciare lo spazio a vostra tutela e quindi all'avvocato Alberto Franchi che ha tutto il tempo necessario per fare il suo intervento prima come sempre lo stacchettino che lo annuncia abbiamo colto dalle parole del dottor Tosi come gli interessi dell'agricoltura convenzionale talvolta ma si conciliano col delicato tema della salute della sicurezza dell'ambiente generale l'utilizzo sfrenato come diceva il direttore Capitini di pesticidi e di agenti chimici vari può infatti danneggiare territorio ovviamente le persone causando danni ambientali piuttosto significativi oggi vorrei porre l'attenzione su uno dei temi che preoccupa più di tutti quando si parla dell'utilizzo di fitofarmaci e dei prodotti chimici in generale che è l'effetto deriva il cosiddetto effetto deriva e cosa si intende con l'effetto deriva si intende descrivere quel particolare fenomeno di dispersione nell'aria di pesticidi che di conseguenza vanno a diffondersi e a depositarsi nell'ambiente circostante inquinando l'aria l'acqua e il suono e si tratta di naturalmente di una contaminazione che va a discapito anche di chi opera invece secondo adottando buone pratiche e con procedure bio cui faceva appunto poco fa riferimento il presidente Dottor Tosi vi porto questo caso esattamente il caso che vi presento oggi e che si conclude con la sentenza del giudice di merito che ha aperto la strada al tema di un vero e proprio diritto all'assenza di contaminazione la vicenda riguarda due coltivatori noi abbiamo un coltivatore diretto un coltivatore che opera un proprietario di un'azienda vitivinicola adottando sistemi convenzionali quindi con l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi e a fianco un operatore biologico il quale ha subito danni da contaminazione imputabile e vicino a causa della quantità di diserbanti e pesticidi che si depositavano sui terreni e addirittura si diffondevano anche all'interno della propria abitazione cosa dice il giudice ovviamente in questo caso il proprietario del terreno dell'azienda biologica fa causa a proprietario dell'azienda vitivinicola dicendo mi hai procurato dei danni hai violato il diritto costituzionalmente sancito alla salute di tal che mi devi naturalmente risarcire i danni non solo alla mia persona ma anche la mia azienda agricola biologica e in questa sentenza il giudice di merito ha addirittura sancito che nel caso di specie non occorre nemmeno valutare la tollerabilità di simili immissioni dovendosi comunque considerarsi illecita proprio perché in violazione del diritto alla salute l'immissione dei prodotti nocivi quali i pesticidi e i disembanti nella proprietà in altre parole il pregiudizio deriva appunto da direttamente dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito quale è il diritto alla salute naturalmente il giudice ha dovuto nel provvedimento della sentenza salvare un po' capra e cavoli cioè ha dovuto effettuare un contemperamento fra gli interessi dell'azienda agricola convenzionale con quelle dell'azienda agricola biologica e ha individuato quelle cautele che consentissero la proseguizione di entrambi le aziende in sentenza il giudice sostanzialmente essendo emerso anche dalle consulenze tecniche svolte in corso di causa che risultava impossibile una modalità di erogazione i pesticidi che viene attraverso gli atomizzatori tale da escludere del tutto il rischio di effetto e deriva ma il giudice ha detto all'azienda che operava secondo il medico convenzionale per ridurre le emissioni in sostanze nascive dicendo tu devi naturalmente limitare la velocità del mezzo di distribuzione devi limitare la pressione di erogazione e magari devi anche ed ho concluso orientare i bocchettoni di erogazione in direzione opposta al confinante allora presidente tu sia lei la parola ma già l'avvocato nelle ultime parole ha dato un po' la soluzione nel senso che è di tipo comportamentale e tecnologico il problema esiste il rischio di deriva esiste perché il prodotto quando esce ad atomizzatore chiaramente non è facilmente controllabile lo si fa attraverso il buon senso in primis quindi se c'è vento non si tratta se devo trattare verso oriento i bocchettoni verso la parte opposta rispetto a dove non deve andare ricordo anche che ci sono comunque dei regolamenti e delle norme che prevedono delle facce di rispetto che vanno assolutamente appunto rispettate e poi direi che la tecnologia ci sta venendo a dare una grande mano già ci sono i cosiddetti atomizzatori a recupero dove ci sono praticamente fronte degli ugelli delle paratie che impediscono proprio la dispersione fisica del prodotto ci sono sistemi che hanno dei lettori ottici che aprono gli ugelli solo dove c'è la vegetazione e li chiudono dove non c'è quindi voglio dire il problema c'è il lavoro che si sta facendo è importante penso che nei prossimi anni la tecnologia mi ripeto ma è proprio vero ci darà una mano proprio per evitare queste sgradevoli situazioni che non devono assolutamente accadere questo va da sé insomma però ecco in questi termini si sta lavorando parecchio e penso che nei prossimi anni l'aiuto che ci sarà dato ci sarà molto concreto trovo questa nostra intervista veramente molto concretamente importante avete dato delle giuste opinioni avete tracciato degli orizzonti dei panorami che sono veritieri ma anche un orizzonte un poco visionario e utopistico che dice continuiamo su questa strada speriamo che l'utopia si fermi per quella strada Avvocato vuole dire un'ultima parola prima del congedo? Ma l'argomento della sicurezza alimentare direttore è un tema come lei ben sa di assoluta attualità e di particolare importanza vediamo tutti i giorni sui giornali notizie di cronaca che proprio impongono questi regolamenti europei che ci arrivano dall'Europa e devo dire concordando appieno con le parole del presidente che l'Italia è una nazione che fa stato in questo senso però è un tema che è da riprendere da dibattere in vari argomenti potremmo farlo anche in questa stessa sede intanto ricordo a tutti coloro che sono alla visione ascolto che per saperne di più nella presentazione che affianca la pubblicazione troverete anche dei link che possono darvi ragguagli ulteriori basta semplicemente cliccarli e avrete risposta ad altri vostri quesiti grazie dunque al presidente dottor Lorenzo Tosi per la sua disponibilità e come ha detto l'avvocato franchi sono d'accordo magari ci si potrà risentire su questo camminamento che è da praticare da calpestare bene l'astricato come è non sempre lucido ma l'astricato lo è è bene e quindi va per corso grazie a tutti voi ancora grazie al presidente Tosi e all'avvocato all'appuntamento per My Generation Safety esattamente tra una settimana a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.